allora oggi facciamo una parentesi sulla parte di programmazione nel senso che ogni circa una lezione in due settimane sarà dedicata la parte di teoria sapete che come avevamo detto all'inizio verso fine novembre faremo l'accertamento intermedio e nell'accertamento intermedio ci saranno due domande legate alla parte di teoria e due domande legate alla parte di programmazione poi più avanti vi facciamo anche qualche esempio pratico di come funzionerà e quindi iniziamo a intercalare la parte di programmazione in cui stiamo andando avanti con qualche argomento di teoria che in realtà poi serve anche per capire meglio cosa facciamo quando programmiamo e ciò di cui cominciamo ad occuparci oggi è la rappresentazione delle informazioni l'altra volta dicevamo ma sai quando scrivi un numero intero, un numero reale il computer lo codifica in modi particolari diversi ecco cominciamo a capire questa parte qua cosa c'è, diciamo così, quali sono i meccanismi interni che non ci servono più di tanto per usare un linguaggio di programmazione ma sicuramente per capire come funziona poi la macchina allora parliamo di rappresentazione delle informazioni o dei dati informazioni non ci stava quindi ho scritto dati perché è più corto partendo dal tipo di dato più semplice con cui normalmente abbiamo a che fare che sono i numeri, in particolare i numeri interi allora quando io metto quella cosa lì 252 o meglio quel simbolo lì, diciamo così, presentato sulla slide tutti noi leggiamo 252 e associamo un valore mentalmente a questo 252 noi abbiamo quella rappresentazione che è fatta di centinaia decine unità che associamo a un valore numerico reale se mi dicono senti fammi una pila di 252 caramelle io lo so fare, le so contare e siamo talmente abituati a fare questo che identifichiamo nella nostra mente il numero, cioè la quantità con la sua rappresentazione, cioè come lo scrivo oggi separeremo questi due aspetti cercando di vedere se ci sono altri modi di rappresentare le stesse quantità, gli stessi numeri ok? allora per far questo torniamo indietro a chi ha inventato il 252 o meglio, chi ha inventato il sistema di numerazione che noi utilizziamo, no? vabbè, noi sappiamo tutti che è un sistema arabo decimale e posizionale cosa vuol dire decimale e posizionale? vuol dire che noi il 2 che abbiamo in questa posizione è diverso dal 2 che abbiamo in quell'altra posizione, cioè il valore di una cifra dipende dalla sua posizione se pensate ai numeri romani non è così perché la i vale sempre 1 cioè o più 1 o meno 1 a seconda dove la metti, ma sempre 1 vale mentre qua il 2 vale 2 unità o 200 unità a seconda dove la mettiamo posizionale decimale perché le cifre sono 10 e perché il valore di ciascuna cifra è partendo da destra e andando verso sinistra è ogni volta 10 volte superiore a quella precedente quindi noi tutte le volte che scriviamo un numero in realtà stiamo sottintendendo una somma di prodotti di potenze una somma di prodotti delle cifre del numero, il 2, il 5 e il 2 per le potenze della base 10 alla seconda, 10 alla prima, 10 alla zero questa è la formula generale ok? è chiaro che quando abbiamo imparato a scrivere i numeri in prima elementare non ce lo potevano scrivere così però questa è l'effettiva definizione della numerazione che usiamo ed è generalizzabile adesso qua non vi racconto le altre cose ma generalizzando quella formula arriviamo a scriverla così cioè se noi abbiamo un numero qualunque fatto di tante cifre che qui ho chiamato a 0, 1, 2, 3, 4 eccetera fino a n-1 o questo numero qua ha n cifre come sempre contando da 0 a n-1 e la cifra 0 chiamo la cifra 0 quella più a destra che è quella delle unità mentre invece la numerazione delle cifre 1, 2, 3 cresce da destra verso sinistra quindi trovate questo pacchetto di numeri qua che potrebbe essere appunto 3, 8, 7, 2, 9 ok? allora 3, 8, 7, 2, 9 a 0 sarebbe la cifra 9 a 1 sarebbe la cifra 1 sto tornando indietro a 2 sarebbe la cifra 7 a 3 sarebbe la cifra 8 e a 4 sarebbe la cifra 3 se mi ricordo il numero che ho detto il valore di quel numero 3, 8, 7, 2, 9 noi sappiamo che è 38.729 lo dico così così ci ricorda più il valore che non la sequenza delle cifre si può ottenere per definizione moltiplicando le singole cifre per 10 elevato a un indice che indica la posizione di cui si trova quella cifra e quindi a 0 la cifra dell'unità viene moltiplicata per 10 alla 0 cioè per 1 a 1 che è la cifra delle decine viene moltiplicata per 10 alla 1 per 10 a 3 che è la cifra delle migliaia viene moltiplicata guarda caldo per 10 alla terza cioè 1000 no? questo è quello che abbiamo dopodichè qua non ho scritto 10 ho scritto b noi in testa abbiamo b uguale 10 la base nostra con cui calcoliamo è la base 10 ma nulla vieta che questa stessa formula si possa applicare in qualunque altra base su qualunque altro valore positivo maggiore di 2 maggiore di 1 di base no? da 2 in avanti il concetto è lo stesso e vale anche un'altra proprietà in realtà ci sono due osservazioni da fare una è al variare della base allora in base a 10 le cifre che possono assumere i valori diversi che possono assumere le singole cifre quali sono? vabbè sono i numeri dallo 0 al 9 quindi sono 10 simboli diversi in base a 10 che vanno da 0 a 10-1 gli estremi compresi questa anche qua è una regola generale quindi se vado in base 7 se voglio rappresentare i numeri in base 7 che esiste non c'è nulla di male fossimo nati con 7 dita sarebbe la cosa più naturale del mondo allora avremmo 7 cifre diverse che vanno dallo 0 al 6 se vogliamo contare in base 16 cosa che faremo perché sarà molto comodo potremmo avere una base B uguale 16 che avrà quindi 16 cifre diverse che vanno dallo 0 al 15 dopodichè come scriverlo dobbiamo inventarcelo perché fino a 0 fino al 9 ce l'abbiamo il 10 ci vorrà un simbolo uno scarabocchio diverso per rappresentare un simbolo che valga 10 non possiamo scrivere 1-0 no? perché 1-0 vorrebbe dire occupare il posto delle decine che in realtà sono sedicine in quel caso ma ci arriviamo alla base 16 per dire che è possibile pensare a basi che siano più piccole della base 10 o anche più grandi della base 10 questa formula vale lo stesso ed è bionivoca nel senso che se io scelgo le cifre per un numero in base B da 0 a B-1 data una rappresentazione dato un qualunque numero ha qualunque valore di un numerico ha la sua rappresentazione in una determinata base esiste ed è unica è sempre possibile trovare una sequenza di cifre cioè se io prendo questo gessetto lo faccio in mille pezzettini e poi vi dico adesso quanti pezzi sono contiamoli beh quello è un numero i pezzettini di gesso sono un valore incontrovertibile oggettivo poi lo voglio rappresentare scrivendo un numero in una certa base in base 10 lo sappiamo fare siamo sicuri che qualunque tipo di spezzettamento io faccia con un po' di pazienza sapete dirmi contare quanti pezzi ci sono e scriverlo in base 10 noi stiamo dando per scontato che qualunque numero si può scrivere in base 10 si è così ma non è scontato ecco questa stessa proprietà vale in qualunque altra base dato un numero lo posso sempre rappresentare in qualunque base in modo unico non ci sono due modi diversi di scrivere lo stesso numero sui numeri interi in realtà ci sono c'è una piccola ambiguità nei sistemi di numerazione di questo genere come quando abbiamo i numeri periodici quindi 0,9 periodico e 1 sono lo stesso numero identico non approssimato è proprio lo stesso valore ma quello è un caso particolare sui numeri interi non abbiamo problemi anzi qui parliamo di numeri naturali perché il segno non l'ho messo davanti quindi parliamo di numeri positivi allora questo ci dice lo stesso meccanismo che usiamo ormai in modo intuitivo in base 10 lo posso applicare con qualunque tipo di base B positiva maggiore di 1 in particolare in informatica il computer usa un sistema di numerazione che è un sistema binario basato solo su due cifre su due valori possibili che possiamo chiamare 0,1 perché? ma perché dal punto di vista elettrico è facile rappresentare due valori diversi che sono la presenza o l'assenza di una corrente elettrica la presenza o l'assenza di una tensione diciamo che che viene caricata su una cella di memoria eccetera eccetera no? quindi costruttivamente è facile distinguere tra due valori sarebbe molto più complicato distinguere tra più livelli di valori diversi e quindi l'informatica si è sviluppata partendo dall'elettronica che fornisce il bit cioè fornisce la possibilità di rappresentare elaborare memorizzare un'informazione binaria sino 0,1 e da lì in poi si è costruito avendo quello come mattone fondamentale si è costruito tutte le possibili rappresentazioni per tutti i possibili tipi di dato quindi dentro il calcolatore l'unica cosa che trovate sono solamente 0 e 1 poi se il computer vi stampa 252 è perché in qualche modo ha convertito questi 0 e questi 1 in questi simboli decimali che vediamo ma dentro lui lavora sempre in binario non c'è nulla di speciale nel binario se mi dicono guarda innanzitutto le cifre sono solo 0,1 quindi i numeri binari sono fatti 0,1,1,0,0,1,1 cioè non ci sono altre cifre in mezzo sono un po' noiosi da vedere ma da leggere non creano problemi 1,0,1 che ne so l'ho buttato lì come numero binario possibile scriviamo il 2 sotto per ricordarci che è rappresentato in base 2 questo non è 101 non leggiamo il 101 è 1,0,1 in base 2 se mi dicono che mi dai 1,0,1 mele in base 2 quante mele sono? eh facciamoci il conto applichiamo la stessa formuletta della somma delle potenze dei prodotti somma delle potenze scusate dove questa volta la base è 2 e quindi abbiamo le tre cifre 2 alla 0 che sono moltiplicate rispettivamente per 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 e vengono moltiplicate per 1,0,1 rispettivamente perché sono 1,0,1 le cifre decimali le cifre binarie perdono e quindi avremmo partendo da destra sempre 1 per 1 2 alla 0 che è qua più 0 per 2 e quindi questa sommatoria vale 0 più 1 per 4 cioè 4 più 1 che fa 5 in decimale quindi 1,0,1 in base 2 è un modo diverso di scrivere lo stesso valore che è 5 in base 10 da qualche parte in astratto esiste un concetto di 5 che si può scrivere col simbolo di 5 o che si può scrivere 1,0,1 a seconda della base che scegliamo cifra binaria è ciò che uso per comporre un numero rappresentato in binario viene abbreviato spesso come bit binary digit vuol dire semplicemente cifra binaria niente di più quindi quando parliamo di cifre normalmente pensiamo alle cifre decimali quando parliamo di bit pensiamo invece alle cifre binarie e non c'è nulla di più nel senso che sulla base di questo semplice diciamo così formula semplice una volta che l'abbiamo vista si può costruire qualunque tipo di numero in base 2 qui c'è l'esempio dei primi numeri nelle prime due colonne di questa slide quelle due di sinistra come si conta in base 2 no? ad esempio prendiamo un numero qua 12 12 decimale in base 2 cos'è? è 0 per 2 alla 0 0 per 2 alla 1 1 per 2 alla 2 cioè 4 1 per 2 alla 3 cioè 8 8 più 4 12 ok? se contiamo abbiamo 0 1 2 3 4 5 6 no? possiamo anche contare sulle dita dito su dito giù fa 0 1 e con una mano contiamo fino a 31 sulle 5 dita se abbiamo due due mani possiamo contare fino a 1023 no? quindi un metro più efficiente se vogliamo di contare che non quello decimale di allungare le dita ma al di là di questo vedete che dal 2 in avanti i numeri binari hanno due cifre dal 4 in avanti hanno tre cifre dall'8 in avanti avranno quattro cifre man mano che il numero cresce ho bisogno di più cifre visto che il bit vale meno della cifra decimale e a parità di numero mi serviranno più bit rispetto a quanti mi servono per rappresentare il numero in base a 10 e vabbè tra l'altro questo mi dà anche un'idea su come velocemente leggere un numero no? decimale ad esempio guardiamo questo non guardate che fianco è 10 ma se queste sono potenze di 2 io vado alla caccia degli uni e quindi vedo che l'1 gli zeri non danno nulla alla sommatoria no? gli uni danno un valore che è pari alla potenza di 2 corrispondente quindi questa roba qua a occhio è 2 più 8 leggiamo da destra verso sinistra le potenze sono 1,2,4,8 dove ci sono gli uni? sul 2 sull'8 quindi fa 10 è anche abbastanza semplice da vedere e viceversa adesso poi impareremo a fare le conversioni proprio facendo i passaggini ma molte volte non ce n'è bisogno perché basta appunto sommare le potenze del 2 ecco e così come in base a 10 sono importanti le potenze del 10 in base a 2 sono importanti le potenze del 2 che almeno queste dopo un po' che uno le usa ti entrano in testa si sanno a memoria no? sicuramente le prime le più piccole 256 è importante 2 all'8 è un valore importante lo vedremo perché è la dimensione di un byte e un valore interessante è 2 alla 10 2 alla 10 che vale 1024 allora 2 alla 10 che vale 1024 è comodo perché tu sai che 2 alla 10 vale circa come 10 al cubo come 1000 dire che 2 alla 10 faccia 1000 non è vero ma ti da compieresti un errore del 2,4 per cento di approssimazione in molti casi ce lo possiamo concedere soprattutto quando ci facciamo un'idea delle dimensioni e quindi spesso sfruttiamo questa casuale somiglianza tra una potenza del 2 e una potenza del 10 per ragionare anche in termini di multipli no? noi abbiamo qualche cosa magari di 10 KB Kilo a me fa venire in mente 1000 in decimale in realtà se lavoro in binario abuso del termine chilo per rappresentare 2 alla 10 quindi un K chilo in binario se lavoro con numeri binari vale 2 alla 10 poi se io mentalmente penso che valga 1000 non mi sbaglio di troppo quindi mentalmente mi fa comodo avere quella situazione un mega a me fa venire in mente un milione 10 alla sesta ecco lavorando con i numeri binari mega rappresenta il 2 alla 20 2 alla 20 non fa esattamente un milione fa un po' di più però più o meno è un milione,00 e qualche decino di migliaia i giga i giga i giga normalmente come unità di misura sono 10 alla terza alla 9 in binario sono 2 alla 30 che è un po' più di un miliardo vero ma più o meno stiamo nel qualche percentuale di scarto quindi solo a livello mnemonico ci fa comodo avere dei multipli delle potenze del 2 che sono 2 alla 10 2 alla 20 2 alla 30 2 alla 40 tera se vogliamo che sono vicini alle potenze del 10 con lo stesso nome 10 alla 3 10 alla 6 10 alla 9 10 alla 12 solo per comodità nostra poi chiaro che quando devi fare i conti giusti c'è la calcolatrice si metti dentro la potenza il valore giusto però tante volte ci serve proprio avere l'ordine di grandezza ok se questa definizione come la come la applico come faccio se mi dai un numero che ne so in binario a sapere quanto vale è come facevamo prima se ho tempo da perdere mi metto a scrivere la sommatoria e faccio i conti ma sappiamo già che significa semplicemente sommare in questo caso 1 non 2 4 8 questi 4 più 8 12 più 1 13 la stessa cosa di questa sommatoria qua semplicemente il vantaggio qual è? la stessa cosa la potrei fare anche in base 10 o in qualunque altra base la differenza è che in base 2 o il termine della sommatoria o c'è perché la cifra il bit vale 1 o non c'è perché il bit vale 0 e quindi devo semplicemente sommare le potenze del 2 in qualunque altra base dovrei sommare le potenze del 7 dicevamo prima ma moltiplicandole prima per la cifra e quindi i conti li devo fare le moltiplicazioni in più adesso non le posso fare a mente mentre qua semplicemente moltiplicare per 1 vuol dire prendo quella potenza e moltiplicare per 0 vuol dire ignoro quella potenza e quindi si fa in fretta sommando le potenze e il contrario invece come si fa? beh ci sono due modi uno è quello che è spiegato qua in questa slide ma in realtà ci sono anche modi più veloci che vorrei vedere insieme a voi su un esempio allora vediamo un po' di riuscire a ingrandire sta roba allora ipotizziamo che ci dicano di convertire in binario un numero decimale anche abbastanza grosso che so 55 in binario decimale convertire in binario allora ci sono due metodi uno più adatto a fare i calcoli a mente uno più adatto invece a fare i calcoli in modo sistematico il calcolo in modo sistematico che era quello sulla slide lo facciamo per primo si basa su una serie di divisioni ripetute del numero e se vogliamo intuitivamente si basa su un'osservazione molto semplice tutti i numeri pari finiscono con zero tutti i numeri dispari finiscono con uno ma per forza tutti i numeri tutte le cifre successive tranne l'ultima sono moltiplicate per 2 elevato a qualche cosa quindi sono di sicuro pari l'unico che può darti il dispari è la cifra dell'unità ok allora il 55 che è dispari come finisce? finisce con uno perché dispari e quindi sarà qualcosa uno e cos'è questo qualcosa? è questo qualcosa se lo isolassimo sarebbe come lo posso ottenere? beh la metà di 55 se non capite perché la metà basta pensarlo in base 10 se io ho 734 la cifra dell'unità è 4 come lo ottengo il 73? eh 734 diviso 10 sposto la virgola di un posto ok? la stessa cosa in binario quindi ripeto sempre questi due passaggi il numero è pari o dispari? se è dispari finisce con 1 se è pari finisce con 0 e il resto? il resto divido per 2 e vado a vedere cosa trovo il livello di intelligenza necessaria è 0 perché è una macchinetta automatica cosa faccio? 55 diviso 2 fa 25 più 2 27 col resto di 1 diviso l'intero ecco qua 27 più 27 40 77 14 54 più 1 55 e poi 27 che ho ottenuto lo divido ancora per 2 che mi dà 13 col resto di 1 anche lui è dispari 13 diviso 2 mi dà 6 col resto di 1 cioè per 2 12 più 1 13 6 diviso 2 mi dà 3 col resto di 0 3 diviso 2 mi dà 1 1 col resto di 1 1 diviso 2 mi dà 0 col resto di 1 ogni volta che ho fatto la divisione per 2 mi sono spostato in là nel numero i resti mi dicono guarda che la cifra dell'unità vale 1 la cifra immediatamente a fianco vale anch'essa 1 quella ancora a fianco vale di nuovo 1 poi vale 0 mi hanno detto mi hanno detto che l'avevano giustato lo vedo la cifra ancora a fianco è 0 e così via quindi questo numero lo è ottenibile 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 andando a leggere la sequenza dei resti dove il primo resto che ho ottenuto è quello più a destra quello dell'unità l'ultimo resto che ho ottenuto è quello più a sinistra e quello del 2 alla va a sapere quanto questo 1 1 0 1 1 1 in base a 2 sarà vero? eh proviamo questi 3 uni qua fanno 7 è facile 1 più 2 più 4 fa 7 poi abbiamo l'8 questo 0 qua sarebbe la potenza 8 2 alla terza non c'è e poi abbiamo 16 più 32 quindi questo fa 16 più 32 più 7 16 più 32 fa 48 48, 7, 50 si quadra ok? quindi tutte le volte che vi trovate di fronte a un numero decimale e vi serve proprio convertirlo in binario la macchinetta è questa faccio le divisioni successive e tengo traccia dei resti che via via incontro nella slide è rappresentato in modo semplificato dove non c'è scritto diviso 2 uguale, diviso 2 uguale, diviso 2 uguale, diviso 2 uguale ma c'è semplicemente il numero diviso 2 fa 6 col resto di 1 6 diviso 2 fa 3 col resto di 0 e così via no? qui c'è una riga in cui metto i coscenti l'altra riga in cui metto il resto chi lo fa per riga chi lo fa in colonna è uguale l'importante è che dividiate per 2 sta roba fino a quando fino a quando non arrivi a 0 punto oltre il quale sarebbe abbastanza inutile avere tutta una sequenza di 0 infinita che ci sono davanti al numero infiniti 0 ma non stiamo proprio a calcolarli tutti questo era il modo, il modo più sistematico diciamo l'altro modo è più intuitivo che dice ok, 55 lo devo scrivere come somma di potenze del 2 allora riusciamo a vedere a occhio quali sono le potenze del 2 che stanno dentro questo numero? allora la potenza del 2 l'abbiamo vista prima 1, 2, 4, 8, 6, 32, 64 attenzione, 64 è già più grande di quel numero qui non c'è mi chiedo qual è la potenza del 2 più grande che stanno dentro il numero? 32 32 di più non c'è e 32 però mi manca più qualcosa no? qual è il qualcosa? beh 55 meno 32 fa 23 giusto? adesso il 23 a sua volta il 23 lo posso scrivere quindi fatemelo mettere tra parentesi qui devo sommare un 23 e allora mi chiedo qual è la potenza del 2 più grande che sta in 23? 16 perché quella successiva è già 32 e non ci sta in 23 quindi a 16 più più qualche resto da 23 a 16 cosa restano? 7 a questo punto il 7 qual è la potenza del 2 più grande che sta nel 7? il 4 e cosa resta fuori? non restano fuori 3 e quindi il 3 qual è la potenza del 2 più grande che sta nel 3? è un 2 e poi ne resta fuori 1 allora quei numeri che dovessero essere tra parentesi non guardiamoli perché li abbiamo sostituiti con con delle somme e abbiamo scritto il 55 come una somma di potenze di 2 e se l'abbiamo scritto come somma di potenze di 2 quella è la unica corretta rappresentazione del numero le potenze sono 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 2 alla quarta 2 alla terza non c'è non c'è l'8 2 alla quinta quindi 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 non c'è 2 alla 3 c'è 2 alla quarta c'è 2 alla quinta se arrivo fino a 2 alla quinta vuol dire che ho 6 cifre ho 6 bit da 0 a 5 e quindi 2 alla quinta c'è sì 2 alla quarta c'è sì 2 alla terza c'è no 2 alla seconda c'è sì 2 alla prima c'è 2 alla 0 c'è questo si può fare anche direttamente no? adesso prendiamo un altro numero 74 74 vuol dire che la più grande è 64 più 10 e quindi vorrà già dire che 64 è 2 alla sesta no? quindi avrò un 1 seguito da 6 cose 2 alla sesta significa che ho 7 cifre da 2 alla 0 2 alla 7 potenzialmente e a me resta il 10 ma io qua lo vedo anche a occhio come è fatto il 10 no? è 8 più 2 il 2 è qua l'8 è qua tutti gli altri sono 0 vabbè io sono 40 anni che faccio queste robe quindi li vedi a occhio no? questo funziona sempre se però uno si abitua a giocare con quei numeri lo fai praticamente a occhio in un attimo ok? il gioco è caccia alla potenza trovare quali sono le potenze che stanno dentro quel numero e conviene partire da quelle più grandi così ci spaziamo le parti più pesanti del numero ci rimangono quelle più leggere no? io qua quando ero arrivato a vedere 7 mi veniva già voglia di dire sì ma 7 cos'è? 1 1 1 perché magari me lo ricordo o lo vedo a occhio ok? quindi questo risolve il problema i due problemi da un lato se mi dai un numero in base 2 quanto vale in decimale e ci fai i conti la somma delle potenze e l'inverso se hai un numero in decimale pardon se hai un numero in decimale come faccio a rappresentarlo in binario eh o le divisioni successive o la ricerca delle potenze ok? in entrambi i casi e questo ci permette di rappresentare dei numeri naturali numero naturale cioè dello zero in su interi positivi sapendo ovviamente che più è grande il numero più bit mi serviranno e vabbè questo lo diamo per scontato anche in decimale più è grande il numero più cifre mi servono se ho un bit solo se avessi un bit solo potrei rappresentare solamente il valore zero e il valore uno se avessi due bit potrei rappresentare i valori zero, uno, due, tre parlando di decimale che corrispondono a queste combinazioni zero, 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 uno, uno, zero, uno, uno intanto cominciamo a abituarci che se mi dicono che ho due bit io due li ho sempre che siano zero che siano uno la rappresentazione che abbiamo fatto prima qua dei numeri non è tanto veritiera perché sembra che a volte io ho un bit a volte se me ne servono due ne uso due se me ne servono tre ne uso tre se me ne servono quattro ne uso quattro vabbè noi siamo abituati così in decimale usiamo quante cifre quante ce ne servono tante cifre quante ce ne servono e matematicamente è vero anche in binario ma poi quando vado su un calcolatore quel calcolatore quel calcolatore di bit o ne ha uno o ne ha due o ne ha quattro o ne ha dodici ma sono fissi non è che ne aggiungo se me ne servono e quindi normalmente quando uno parla di numeri su due bit ho sempre due bit se me ne servono di meno beh gli altri li lascio a zero chiaramente però li scrivo per ricordarmelo e in generale se avessi tanti bit n bit quali sono i numeri naturali che riesco a rappresentare su n bit? beh il numero più piccolo che posso rappresentare parlando di numeri naturali è zero zero che si scrive come? e beh zero 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 l'unico modo per ottenere zero facendo una somma di potenze di due che sono sempre positive e non mettere nessuna una somma di valori che possono essere nulli o positivi a seconda che io li metta o non li metta se il risultato deve essere zero devono essere tutti a zero e il numero più grande che posso ottenere? è il numero più grande che posso ottenere visto che è una sommatoria di potenze di due che sono tutte positive per definizione il numero più grande che posso ottenere su n bit è avere n uni consecutivi 1 1 1 1 1 1 è in decimale quello è il numero più grande che puoi avere 9 9 9 9 9 dato il numero fisso di cifre è qui la stessa cosa 1 1 1 1 non ce l'ho il 9 mi accontento dell'1 tutto quello che ho metto più roba che posso ok? metto dentro tutte le potenze che si sommano tra di loro e quindi in base a 2 avrò una sequenza di uni se ho n bit di n uni ad esempio su 8 bit avrò 8 uni quanto vale quel numero? con 8 uni che numero mi esce fuori? allora fa 128 più 64 più 32 più 16 più 8 più 4 più 2 più 1 quanto fa? 255 basta fare la somma in realtà questa somma in generale si può fare si può fare in due modi o ricordandovi se ve l'hanno già ricordata o insegnata la formula della somma geometrica ridotta c'è la formuletta la sommatoria qui cosa abbiamo? una sommatoria di potenze somma di 1 c'è sempre lo 1 per 2 alla i allora se andate a vedere il libro di matematica c'è la formuletta che ti dice somma da 0 n di 2 base elevato esponente fa una certa formuletta che non me la ricordo mi sembra che sia a alla n meno 1 fratto a meno 1 una roba così non mi ricordo oppure c'è un modo più facile almeno per me è più facile di ricordare che è qual è il numero più grande che posso scrivere su 8 bit? sarà uno in meno un'unità in meno del numero più piccolo che posso scrivere su 9 bit qual è il numero più grande in decimale che posso scrivere con 4 cifre? è uno in meno di 10.000 che è il numero più piccolo che richiede 5 cifre allora qual è il numero più piccolo che posso scrivere su n più 1 bit? 2 alla n tolgo 1 ottengo il numero più grande che posso scrivere su n bit cioè qui mi sta dicendo guarda fino a questo numero ti bastano n bit se sommassi 1 te ne serve 1 in più il valore 2 alla n come si scrive? 2 alla n si scrive 1 seguito da n 0 n 0 quindi in totale ne ho n più 1 di cifre di bit ok? quindi questo è il motivo scusatevi sono più ingegnere che matematico quindi ricordo più il motivo che non la formula per cui vale questo valore ma poi dopo un po' si ricorda quindi su 8 bit essendo 2 alla 8 256 posso rappresentare i numeri da 0 a 255 su 10 bit abbiamo detto prima che 10 2 alla 10 vale 1024 se avessi 10 bit potrei rappresentare tutti i numeri da 0 a 1023 che si scrive 1 1 1 1 10 1 di fila poi dicevamo prima perché 8 è importante ma perché un bit da solo un po' troppo sfigato cioè non è che puoi contare le cose con un bit singolo e quindi per riuscire all'interno del calcolatore a contare dei valori sensati bisogna usare dei gruppi di bit quindi all'interno del calcolatore sono i bit sono aggregati a gruppetti il gruppo più significativo di bit il multiplino più piccolo del bit si chiama byte che rappresenta 8 bit a volte o meglio cerchiamo di essere coerenti bit si rappresenta con la b minuscola e a volte si abbrevia anche con la b minuscola e byte si rappresenta con la b maiuscola quindi è un multiplo non 10 volte ma 8 volte e poi in realtà anche un byte abbiamo visto 8 bit non è che ci permette di rappresentare grandi numeri da 0 a 255 solamente e quindi per rappresentare numeri ancora più ampi ci serviranno un multiplo dei byte quindi non hanno più dei nomi particolari in generale si chiamano parole parole di 2 byte parole di 4 byte parole di 8 byte la parola di 8 byte sono 64 bit 64 bit comincia già ad essere un numerino rappresentabile 64 bit senza fare conti su 64 bit qual è il numero più grande che posso rappresentare? senza fare conti eh non mettetevi lì con la calcolatrice su 64 bit apprenderò una roba tipo 2 alla 64 meno 1 e vabbè fin lì applico la formula ma quanto vale 2 alla 64? lasciate perdere l'1 quanto vale 2 alla 64? e noi sappiamo che 2 alla 10 è circa è circa mille 10 alla terza quindi 2 alla 60 è circa 10 alla 6 volte tanto 6 volte tanto e 2 alla 60 quindi 64 quindi 2 alla 64 sarà circa sempre 2 alla quarta 16 per 10 per 10 alla 18 più o meno quindi se io rappresentassi un numero intero 64 bit sono tranquillo fino a un miliardo di miliardi anzi 2 miliardi 16 miliardi di miliardi miliardo di 10 alla 9 se volessi rappresentare i numeri più grandi non so perché vabbè magari ne ho bisogno mi servirebbero più di 64 bit i calcolatori oggi usano normalmente 64 bit come quantità base della cellula di memoria interna al calcolatore quindi normalmente quando parliamo di un numero intero stiamo parlando di 64 bit quindi numeri in questo range qua fino alla generazione precedente i calcolatori usavano normalmente delle parole di memoria di 4 byte quindi 32 bit e con lo stesso ragionamento 32 bit mi portano a valori fino a 4 miliardi circa il 4 arriva dal 2 alla seconda il miliardo arriva da 2 alla 30 2 alla 30 che sarebbe 10 al cubo 3 volte come ordine di grandezza spesso è più importante avere in mente l'ordine di grandezza che il numerino giusto che se ci serve abbiamo la calcolatrice vabbè qui sto mettendo una questione di terminologia a volte si hanno un nome il primo e l'ultimo bit di una parola parola fatta di più bit e vengono che prendono il nome di bit meno significativo lsb o bit più significativo most indicant bit msb ma niente se trovate scritto lsb è lui è quello delle unità lmsb è quello della potenza più grande che rappresenti con quel numero di bit sarebbe il bit di potenza 2 alla n-1 ricordiamoci sempre il meno 1 da 0 a n-1 vabbè qui ci sono i numeri su 32 bit se non ci credevate che era più o meno 4 miliardi poi la calcolatrice mi dà ragione 4 miliardi è 300 mila quasi c'è uno scostamento che è quasi del 10% ok comunque l'ordine di grandezza è quella non è 4 miliardi non è 400 miliardi questo ovviamente il numero massimo questo è la 2 alla 32 il numero massimo rappresentabile è 2 alla 32 meno 1 se guardate l'unità non è 6 ma è 5 e cosa me ne faccio una volta che ho rappresentato i numeri in binario? in prima elementare abbiamo imparato i numeri e poi abbiamo imparato a fare le 4 operazioni finora abbiamo dimostrato che avendo una macchina che è solo capace a rappresentare 0 e 1 anzi 1 0 e 1 con questo trucco riusciamo a rappresentare tutti i numeri naturali fino a 2 alla A dipende quanti bit ci mettiamo in gioco e una volta che li ho inventati che operazioni posso fare? voglio poterci fare le operazioni sopra ad esempio come si fa la somma? si fa come facevamo alle scuole elementari faccio la somma in colonna e devo fare conto con i riporti vediamolo con i nostri numerini che abbiamo fatto prima prima abbiamo sparato grosso ma lavoriamo pure su numeri un pochino più significativi noi avevamo 55 e poi numeri presi a caso nell'esempio più 74 allora come faccio? mettiamoci nel mondo del laboratore 55 e 74 non esistono esistono solo questo 1 1 0 1 1 1 e quest'altro 1 0 0 1 0 1 0 e mi dicono sommali allora con la memoria ipnosi regressiva torniamo in secondo elementare come facevamo a sommare i numeri? beh prima di tutto li metto ben in colonna in questo caso ho due numeri che hanno un numero di bit diverso e devo allinearli devo allinearli in modo che l'unità siano sotto l'unità le decine che non sono decine sono dueine sono sotto le dueine le quattrine sono sotto le quattrine non hanno un nome queste cose però devono essere allineati in modo che ciascun bit sia allineato col bit di peso corrispondente di potenza corrispondente poi magari mi faccio un po' di spazio come faccio qua giusto per potermi girare intorno a vedere qualcosa voi sul foglio di carta sarete più comoda perché basta scriverli un po' distanziati e cosa devo fare? devo fare una somma questo più questo fa cosa fa? tiriamo una riga e vediamo la somma come si fa la somma? si parte dall'unità e in ciascuna colonna devo fare il conto 1 più 0 in questo caso quanto fa? fa 1 2 sommo i bit in posizione corrispondente unità con unità 2 alla 0 più alla 1 con 2 alla 1 2 alla 2 con 2 alla 2 e così via qua devo fare 1 più 1 quanto fa 1 più 1? 2 ci sta il 2 in un bit? no allora cosa devo fare? cosa facevo quando trovavo 5 più 5? che faceva 10? scrivo 0 e riporto 1 è qui uguale il 2 scrivo 0 e riporto 1 dove lo riporto? fatemelo mettere qua sopra ecco così quindi praticamente vediamo se dal punto di vista aritmetico ha senso io sto dicendo questo 1 in realtà vale 2 alla 1 quindi sto facendo 2 più 2 che farebbe un 4 che fa 0 sulla potenza 2 più 1 sulla potenza 4 ci stiamo dovrei mettere 2 in questa casellina qua sotto ma non ci sta il 2 in questa casellina qua sotto allora metto uno 0 e metto un il doppio o meglio la metà nella casellina a fianco che vale il doppio e qua il gioco si ripete 1 più 1 devo fare cosa? 1 più 0 più il riporto quindi 1 più 0 più 1 fa 2 di nuovo quindi 2 di nuovo 0 e di nuovo riporto di 1 e qui è la stessa cosa 0 più 1 più un riporto che devo sommare quindi avrò di nuovo 2 cioè 0 col riporto di 1 agli assoluti a caldo quindi non sono particolarmente divertenti sempre uguale 1 più 0 con 1 col riporto di 1 quindi di nuovo 0 col riporto di 1 qui di nuovo 0 col riporto di 1 qui ho 0 che non c'è più 1 più 1 fa di nuovo 0 col riporto di 1 fuori cioè il riporto mi va su una cifra che adesso non avevo mi richiede una cifra in più il risultato ha una cifra in più degli addendi quindi quindi avevo un addendo di 6 bit un addendo di 7 bit e un risultato di 8 bit questa roba qua in decimale vale 129 che qualcuno che sappia fare i conti in base a 10 mi dice che è giusto 128 2 alla 7 più 1 più 2 alla 0 quindi la macchinetta per eseguire l'addizione è quella che conosciamo da sempre quindi bisogna fare attenzione che il riporto scatta non oltre il 9 ma oltre l'1 cioè del 2 in avanti i casi possibili non sono molti perché io posso avere adesso lo scrivo sotto devo fare in ogni colonna 0 più 0 che fa 0 0 più 1 o 1 più 0 che fa 1 1 1 1 più 1 che fa 0 con il riporto di 1 quello è un caso semplice nel caso in cui invece abbia già un riporto quindi dovrei fare magari 0 più 0 più il riporto di 1 che fa 1 quindi non ci è mai capitato di fare 0 più 0 poi 1 più 0 più il riporto di 1 oppure 0 più 1 più il riporto di 1 e questo è quello che abbiamo sempre fatto avevamo 0 più 1 più il riporto 0 più 1 più il riporto vedete che fa 2 cioè 0 di nuovo col riporto di 1 e poi c'è un altro caso che di nuovo non si è verificato in questa somma è quello in cui avessi già da fare 1 più 1 quindi già poverino mi dava dei problemi ma in più mi dicono eh guarda che devi anche sommare un riporto che ti arriva della cifra inferiore allora sta roba qui cosa fa? fa 3 1 più 1 più un riporto di 1 ancora fa 3 e 3 come lo scrivo? 1 con il riporto di 1 1 più 2 1 me lo tengo e il più 2 lo mando in riporto nella cifra a fianco il 2 spostato nella cifra diventa 1 quindi 1 con il riporto di 1 fine questa è la tabellina dell'addizione non devo fare 7 più 8 che non mi ricordo mai quanto fa con riporti senza riporti c'è il caso qua in cui magari ho un riporto in ingresso ma poi questo riporto finisce lì perché devo fare 0 più 0 quindi la cifra successiva non avrà più nessun riporto qui in questo caso avevamo innescato un riporto qua che si è poi portato avanti su tutte le cifre successive non è detto che capi ma in ogni colonna se il numero è ben incolonnato ricado assolutamente in uno di questi 6 casi non ci sono altri casi possibili qui c'è un esempio dei primi 3 casi dove il secondo e il terzo li ho messi insieme nel caso in cui non ci fosse riporto in ingresso poi nella tabellina che ci siamo fatti abbiamo anche l'altra casistica in cui devo anche sommarci un riporto questo è l'esempio di prima la stessa cosa vale lo stesso ragionamento se devo fare una sottrazione vale lo stesso meccanismo andiamo a ripescare quello che sapremmo fare tra numeri decimali e applichiamo il meccanismo adesso qua se io mi vado a riprendere questa operazione qui che avevamo e provo a fare la sottrazione allora attenzione la sottrazione non la potrò fare così perché questo è il numero minore dell'altro quindi non si può fare la sottrazione qui siamo tornati in elementari dove era vietato fare la sottrazione di un numero più grande da un numero più piccolo e quindi concedetemi di scambiarli quindi metto quello più grande meno quello più piccolo e come funziona l'operazione? di nuovo parto dalle unità subito cado male ma vediamo subito il caso se avessi prendiamone uno qualunque questo qui 1-0 fa 1 0-0 fa 0 1-1 fa 0 il caso dello sfortunato è quando devo fare 0-1 che guarda caso è già il primo caso che mi capita qua 0-1 non si può fare usando il linguaggio che usavamo gli elementari allora cosa faccio? prendo un riporto prendo il prestito dalla cifra alla mia sinistra il prestito preso dalla cifra alla mia sinistra diventa un 2 che ho preso in prestito ricordiamo cosa facevamo in decimale prendevamo una cifra una unità dalla cifra alla mia sinistra che diventava una decina nella mia cifra quindi prendo un prestito vuol dire che io qua prendo è come se avessi un 2 ma ho tolto un 1 di qua fammi scrivere meno 1 mi allargo un pochino altrimenti non mi stanno in meno 1 quindi ho messo un 2 nella cifra della unità a scapito di un 1 che devo sottrarre dalla cifra a fianco poi voi dite ma non ce l'hai quella 1 a sottrare ma ci penso dopo e quindi adesso avendo presto il pre avendo detto 0 meno 1 non si può fare ok prendo un prestito questo prestito vale 2 e quindi a questo punto devo fare 2 più 0 meno 1 facile fa 1 2 più 0 meno 1 fa 1 adesso a fianco cosa succede? a fianco devo determinare questa cifra in cui devo fare 1 meno 1 che di per sé farebbe 0 meno 1 che è questo prestito lo devo restituire quindi 1 meno 1 meno 1 non si può fare l'unico modo per farlo è a mia volta a prendere un prestito e quindi senti mi prestate qualcosa in modo che io abbia 2 e questo te lo rendo te lo renderò sulla cifra successiva un 1 imprestato quindi adesso qua si complica la vita ma devo fare 2 più 1 meno 1 che c'è qua sotto meno 1 di prestito di resa del prestito quindi 2 più 1 3 meno 1 meno 1 cioè tolgo 2 volte 2 unità mi resta 1 poi mi sposto qua 0 meno 1 che è già un problema e ancora meno 1 e vabbè ha capito se lo fai apposta prendi un prestito da questa a fianco che lui non me lo nega e quindi a questo punto avrò 2 più 0 meno 1 meno 1 di prestito da restituire quindi fa 0 ok mi sposto la cifra a fianco dove devo fare che cosa 1 meno 0 e poi meno 1 stavolta mi butta bene perché 1 meno 0 meno 1 si può fare e fa 0 senza far casino senza far riporti a fianco qua quindi questo l'ho fatto a fianco che cos'ho? 0 meno 1 a 0 meno 1 so già come si fa prendo un 2 e faccio un meno 1 a fianco l'avevo già fatto è la prima che abbiamo fatto quindi adesso 2 meno 1 fa 1 di nuovo anche qua ci sono 6 casi in tutto qua abbiamo 0 meno 1 meno 1 per questa cifra quindi anche qua devo prendere in prestito un 2 dal numero a fianco e quindi avrò 2 più 0 meno 1 meno 1 che fa 0 e a fianco avrò un 1 meno 0 meno 1 cioè 0 un po' più faticoso perché chiaramente ci sono i prestiti che sono un po' più complicati da gestire che non i riporti poi spesso nel fare i conti a mano anziché meno 1 si scrive semplicemente 1 perché tanto mi ricordo che devo sottrarlo e il 2 non si scrive neanche perché tanto sto facendo il conto su quella colonna lo uso subito a quella conoscenza del 2 ma io preferisco farlo anche per per chiarezza mia quando poi ricontrollo i conti questa roba qua quanto vale? e abbiamo 3 2 più 1 4, 8, 16 3 più 16, 19 può essere giusto? 74 meno 55 si può essere giusto anzi no, è giusto ok quindi cosa abbiamo imparato? abbiamo imparato che con dei numeri rappresentati in binario possiamo fare somme, fare sottrazioni facendo attenzione che nella gestendo i riporti e i prestiti e facendo attenzione che nella somma può darsi che il risultato richieda un bit in più di quelli che avevo in partenza e che nella sottrazione beh, posso sottrare solamente numeri grandi meno numeri piccoli perché il risultato deve essere positivo visto che i numeri negativi non li so fare per adesso devo essere sicuro che nella sottrazione mi dia un risultato positivo se mi desse un risultato negativo non saprei cosa succede per adesso ok questo nella aritmetica infinita i numeri naturali sono infiniti ma i bit in un computer non sono infiniti allora prima ho detto ho fatto una somma di un numero con 6 bit più un numero con 7 bit e il risultato aveva 8 bit ok dando per scontato che io 8 bit ce li avessi per poter rappresentare il numero ma cosa capita quando invece il risultato di una somma facciamo il caso della somma perché è più facile eccedesse il numero di bit che ho a disposizione cioè un numero supponiamo un numero su 8 bit un altro numero su 8 bit lì somma il risultato varrebbe 9 bit ma la mia memoria contiene solamente 8 bit fisicamente cioè non ci sono proprio non è che lo posso inventare non c'è proprio il posto, il circuito per memorizzare un 9 bit cosa capiterebbe? ebbè capiterebbe che il risultato viene sbagliato facciamo questo esempio io avevo un computer da 4 bit i cui circuiti lavorano solamente 4 bit per volta non ci sono più ma esistevano ma non voglio fare un esempio del 64 se noi ci perdiamo la giornata allora voglio sommare questo cos'è? 5 più 14 ok? l'avete visto non è che questo è un 5 1 più 4 e questo è 14 perché è 7 per 2 un 7 con uno 0 dopo 1 1 1 e 7 con uno 0 sarà doppiato scusate se vi do questi stimoli basso livello ma ci aiutano a non mettersi lì a fare i conti e poi perdere il filo del discorso comunque qua devo fare il computer non lo sa che questo è 5 più 14 non ha idea lui fa il calcolo e fidiamoci non ho fatto io questo slide ma diciamo che è giusta il risultato sarebbe questo la somma di questo richiederebbe la somma di questi due numeri binari richiederebbe 5 bit ma io 5 bit non li ho quindi quell'1 lì che è colorato in rosso non c'è non esiste quindi se io chiedo a un computer di 4 bit che lavora su 4 bit senti quanto fa 0 1 0 1 più 1 1 1 0? e quel computer mi risponde fa 0 0 1 1 gli chiedo quanto fa tradotto dal chat GPT dal binario al decimale quanto fa 5 più 14? fa 3 questo è il massimo che mi può dire non mi può dire che fa 19 perché su 4 bit il 19 non esiste è un concetto che lui non ha non può avere è un numero che non esiste nel suo mondo ok? ma poi questa cosa qua la conosciamo la stessa aritmetica dell'orologio se ci sono le 10 più 4 ore quanto fa? fanno le 2 10 più 4 uguale 2 e a noi non ci stupisce là quando supero il 12 riparto da 0 qui quando supero il 16 quando supero il 2 e la n riparto da 0 allora questa è una condizione che nella aritmetica modulo 16 così si detta cioè dei numeri da 0 a 15 e poi di cominciato a capo in questa aritmetica qua che è implementata da un calcolatore a 4 bit è corretto dire che 5 più 14 fa 3 i numeri in un calcolatore in un'aritmetica finita non c'è la retta dei numeri infinita ma i numeri sono disposti a cerchio quando arriva l'ultimo dopo l'ultimo ricomincia dal primo come contachilometri della macchina arrivato il fondo ricomincia da capo quindi questo è questa operazione è corretta nell'aritmetica modulo 16 in questo caso non è corretta se la penso in decimale quindi che cosa mi capita qua mi capita che il risultato calcolato dal computer nella sua aritmetica non corrisponde col risultato che io mi aspettavo nella mia aritmetica decimale eh, sono due numeriche diverse che cosa ti aspettavi questa condizione è un nome e si chiama overflow overflow l'overflow si verifica quando il risultato di un'operazione non è il risultato vero aritmetico quello matematico no? non è rappresentabile nella codifica che ho a disposizione allora ricordate quando avevate le calcolatrici non scientifiche no? quelle con le quattro operazioni e provate a fare la moltiplicazione di due numeri grossi che non ci stavano più nelle otto cifre del display con la calcolatrice scientifica non ce ne frega niente mette la E e ci mette la potenza del 10 ma prima quando la calcolatrice non è scientifica cosa succedeva? che sul display compariva la E di errore cioè noi abbiamo chiesto un'operazione legittima il risultato esiste ma non è rappresentabile nella potenza di calcolo di quella calcolatrice la calcolatrice se ne accorge e piuttosto di sparare cretinate mi dice errore ma errore non errore mio errore suo che non ce la fa qui è un po' peggio mentre che lui mi direbbe il risultato è 3 c'è la macchinetta di calcolo non si accorge di per sé di cosa sta succedendo semplicemente noi quando avevamo fatto la somma e avevamo fatto questo riporto su questo bit in più l'abbiamo aggiunto ecco un calcolatore che avesse 7 bit si fermerebbe semplicemente a questo punto e direbbe ho finito non c'ho un bit in più da sommare ho finito il lavoro e quindi mi direbbe che il risultato non è 129 ma è 1 perché il bit in più non ci sarebbe quindi è possibile quando faccio delle operazioni in questo caso di somma tra numeri naturali codificati in binario occhio su un numero fisso di bit questo è quello che cambia se ho un numero fisso di bit può darsi che il risultato sia sbagliato sia corretto nell'ermetica modulo 2ln ma non lo sia nell'ermetica decimale infinita a me piacerebbe tanto che il computer se ne accorgesse e come fa a accorgersene? non può accorgersene guardando il risultato per noi il risultato è quello non posso dire al computer ma guarda che questo bit qua è U no, non c'è, non esiste c'è nella nostra testa ma nel computer non c'è questo bit in più allora devo accorgermi accorgermene mentre faccio l'operazione in questo caso me ne sono accorto perché ho me ne sarei potuto accorgere perché si generava un riporto in uscita dal bit più significativo quindi se ho 7 bit e nel calcolare il settimo ho ancora un riporto questo riporto andrebbe su un bit che non esiste quindi va perso ma il fatto che si sia generato mi fa dire attenzione che il risultato è sbagliato ok? quindi in binario puro nella codifica binaria se ho il numero fisso di bit e nel fare l'operazione con quel numero fisso di bit mi accorgo che nel bit più a sinistra il più significativo finisco l'operazione e ho ancora un riporto che non saprei dove mettere quello è un sintomo che si è verificato un overflow e quindi il risultato che trovo sul numero fisso di bit è sbagliato quindi mi chiedono cosa fa questa operazione io dico questa operazione fa 0011 questo è il risultato ma c'è stato overflow quindi il risultato è sbagliato non posso dire il risultato è 0011 uguale a 5 bit perché non c'è quel bit lì e non posso neanche giustificarlo dicendo sì ma perché il risultato giusto sarebbe 19 ma viene 3 e questo è il risultato che posso vedere io da fuori che penso in decimale ma il calcolatore da dentro non può dire viene 3 ma dovrebbe essere 19 perché 19 per lui non esiste quindi me ne accorgo semplicemente facendo l'operazione dice no caspita non mi bastano i bit che avevo mentre prima abbiamo detto non mi bastano i bit che avevo ne aggiungo uno adesso che sappiamo che i bit sono una risorsa finita definita se capita che non mi bastino i bit che avevo il risultato è errato è la condizione che chiamo appunto di overflow e questo overflow in realtà è una condizione vera succede nei linguaggi di programmazione che quando io faccio un'operazione x uguale x più 1 incremento il valore di una variabile se questa variabile in quel linguaggio di programmazione ad esempio in C è rappresentata in binario come vi ho detto e l'incremento di questa non fa 2 alla 32 ma fa 0 e quindi sballa completamente il calco da lì in avanti e nel caso del linguaggio C non se ne accorge minimamente il programma che è successo all'overflow il programma non dà errore in C eh nel linguaggio C perché funziona così l'hanno impostato così ho detto vabbè tu devi sapere cosa stai facendo se lavorano con i numeri se li incrementi devi sapere tu garantire tu programmatore che non si verifichi ovvero in Python invece funziona diversamente nel senso che internamente il linguaggio Python usa un numero di bit variabili per rappresentare gli interi lui parte se non sbaglio con 64 bit e se poi si accorge che 64 bit non ne bastano non gli bastano ne aggiunge quindi nel caso di numeri interi in Python non si verifica mai overflow perché lui aggiunge bit poi se avete numeri esagerati allora magari non gli basta la memoria per questi bit qua però sono scelte diverse la codifica binaria è sempre la stessa il linguaggio C ha detto dimensione fissa degli interi se vai oltre fatti tuoi Python ha detto dimensione variabile degli interi non puoi andare oltre per costruzione ovviamente Python è un pochino più lento perché deve fare per voi quel lavoro che non fate voi no? però in generale bisogna fare attenzione a queste cose ecco finora abbiamo pensato in base 10 in realtà non è molto difficile pensare anche in base diverse cioè in base 10 in base 2 in particolare in particolare vabbè la base 8 ma mi piace di più la base 16 l'ho accennato all'inizio no? fa comodo molto spesso riuscire a scrivere un numero binario in modo un pochino più compatto no? pensate a questo numero qua se ve lo devo dettare fa 1 0 1 1 1 0 0 1 vabbè lo dico così però è facile perdere il segno no? o perdere il filo poi quando scrivete l'Iban che è pieno di zeri devi contarli non sai dove sei arrivato queste cose qua allora si può usare spesso la base 16 come forma abbreviata della base 2 cosa intendo? allora innanzitutto se sono in base 16 ho bisogno di 16 cifre diverse dallo 0 al 9 le ho già ma dal 9 in poi uso delle lettere per convenzione quindi la lettera C vale 12 10 15 si la lettera F vale 15 non posso scrivere 1 5 tutti appiccicati stretti in una casella sola no? uso un simbolo diverso quindi facile no? dopo di che se io avessi il numero che c'è scritto qua sotto B9 sapendo che è in base 16 come lo leggo questo? B cioè 11 per 16 alla prima più 9 cioè 9 per 16 alla 0 16 alla prima è 2 alla quarta quindi guardate questo numero binario scritto sopra questo 1 qua è moltiplicato per 2 alla quarta poi c'è uno che moltiplicato per 2 alla quinta 2 alla sesta 2 alla settima se io raggruppo questi numeri qua 8 più 2 più 1 se li guardassi da soli farebbero 11 farebbero un 11 per 2 alla quarta posso mentalmente raccogliere 2 alla quarta tra quei primi quattro numeri quindi io come se dicessi questi quattro numeri che fa 11 in decimale cioè B in base 16 per 2 alla quarta più questi quattro numeri per 2 alla 0 ma 2 alla quarta e 16 alla 1 sono la stessa cosa 2 alla 0 e 16 alla 0 sono la stessa cosa non è una dimostrazione fatta col teorema questa ma ci fa capire che se io ho un numero binario e separo le cifre a 4 a 4 ciascun gruppo di quattro cifre viene moltiplicato per una potenza di 2 alla quarta 2 alla quarta una volta 2 alla quarta due volte 2 alla quarta tre volte che sono le potenze di 16 e quindi quel quattro bit lì li posso convertire in una cifra del numero esadecimale cioè in base a 16 quindi quattro cifre le converto e scrivo un numero quattro cifre le converto e scrivo un numero quello che non posso fare in decimale non posso convertire pezzi a pezzi devo fare proprio tutti i conti e le cifre decimali vengono completamente scombussolate rispetto all'incoronamento delle binarie in base a 16 invece no quindi molto spesso per brevità vi dico prendiamo il numero binario che ne so numero binario 3f1 questo è sottinteso che sia lo scrivo così in base a 16 per dire guarda è il numero binario che è 3f1 dopodiché dalla vostra distanza copiare questo numero contando quanti unici sono mentre avete 3f1 è chiaro 3f1 ok? quindi è molto periodo da scrivere da comunicare evitare di... ma alla fine sempre lo scriviamo in base a 16 ma in realtà è un modo per scrivere il numero in base a 2 internamente i calcoli si fanno sempre in base a 2 e in base a 8 è la stessa cosa a gruppetti di 3 anziché a gruppetti di 4 allora questo è l'aritmetica che potremmo usare se avessimo bisogno solamente di numeri positivi per i numeri negativi vi faccio aspettare due settimane vediamo come si estende ciò che abbiamo visto adesso anche ai numeri relativi quindi positivi e negativi e ai numeri reali oggi ci fermiamo qua anche perchè ho scordato di un minuto te lo scuso grazie grazie grazie